No, perché adesso c'è una domanda importante, dato che c'è stato un contraddittorio oggi sul treno tra noi e anche persone sconosciute che abbiamo coinvolto, questo vestito di che colore è? Innanzitutto non è un colore, sono due colori. Allora, ci sta un oro e un bianco. No, perché? Io lo vedo nero e azzurro, lo vedo. No, ma tu sei dal tono. No, ma cosa bella? Nero, cioè ti posso dire quello che vuoi. Io pensavo che mi stesse prendendo in giro, pure io lo vedo da un oro. E anche il oro. Ma abbiamo fatto vedere a una signora sconosciuta che ha la prendendo nero e blu. Può essere un colore argento-azzurrone. Io non lo vedo, ma questo è nero e non lo vedo da un oro. Ma il blu è nero, lo vedo. Questo è blu, blu. Eppure io pensavo che mi stesse prendendo in giro. Ma io è dell'Inter proprio. Ma una signora che non conoscevamo e l'abbiamo messo subito. Ma lui è oro. A me qua è nero. Oh mio Dio. Non ti ho fatto aspettare. No, è diotorismo. Non ti ho fatto aspettare. Non ti ho fatto aspettare. Perché te l'hanno detto che si diventava scena. E c'è un aranfondo di verità. Però voglio dire, insomma. È bianco e oro. Ma da dove hai preso sto vestito? No, questo vestito. Facciamo una cosa. Noi chiediamo al pubblico. Al pubblico. È bianco e oro o nero o blu o blu o blu o blu o blu o blu. Vabbè, mettiamo l'immagine. Mettiamo l'immagine nei commenti. Vediamo chi c'ha ragione. Se è nero, è blu o è bianco e oro. Non ditelo che io c'ho dei bianco. Perché non ci siamo bloccati. Perché non ci siamo bloccati. Non ci siamo buoni medici. Che vi porto? Mi fa anche uno sconto comitivo, mi parli. Quindi se gliene porto... No, devo dire, perché dato che noi siamo una generazione proprio di quelle impegnate, forte, cioè sei bloccato il mondo. Tu stai bacchiato. Sì, sì. Dicono che anche lì si sia fermato. Tutti sono fermati alle esecuzioni. Eh, quindi magari si è seguiti. Se fermassero sarebbe meglio. Ma il mondo. Renzi, che tutto il mondo si è fermato. C'è stata una discussione all'ONU su questo... Ma il nero? Oh, il bianco. C'è proprio la domanda. Ma addirittura una mi ha detto che era bella e rosa. No, va bene. Che era bella e rosa.